Il capogruppo della Lega Sorgetti ha detto che lei non conta più un cazzo. Sì, poi ha detto che era una battuta. Era un po' pesante come battuta, no? La battuta è smentita dall'incontro che c'è stato esattamente un minuto dopo, perché altrimenti non si farebbe un incontro. E questo incontro è per decidere il nome del Premier del governo di 5 Stelle Lega? No, è questo incontro per confrontarsi giustamente come ha chiesto il Presidente della Repubblica. Abbiamo detto che siamo dell'idea che se non si riuscisse davvero a fare un governo noi siamo disponibili ad andare a votare il prima possibile. La prima data utile può essere l'8 luglio. Una data condivisa con il Movimento 5 Stelle, del quale pochi minuti prima Giorgetti ha detto che Di Maio non conta più un cazzo. A che gioco state giocando? Non stiamo giocando a nessun gioco, anzi. Nel momento in cui Giancarlo Giorgetti, Di Maio, Salvini, Centinaio si siedono a un tavolo e ragionano per il bene del Paese, è quello che interessa. Poi le battute, le affermazioni, le cose capite magari in un determinato modo, perché io posso fare una battuta e la battuta poi può essere anche interpretata in un determinato modo. Grazie.